Signore mio Dio, tu mi hai condotto qui, mi hai dato la terra che avevi promesso, ma perché te la riprendi ora? Io ho portato qui le speranze del mio popolo, ma come le spamerò? Devo restare qui, devo portarli via, ma dove signore? Dove? Dove? Dimmi cosa fare, io sono il tuo servo, ma come posso servirti? Come devo servirti? Oh mio Dio, non abbandonarmi.